Su, fallo. Concordo che debba morire, ma nel modo giusto. Qualsiasi cosa farò si ritorcerà su di te e sulla mamma. Katniss! Devo dirle addio! Katniss! I settantacinquesimi Hunger Games! Stavolta avrete di fronte tutti assassini esperti. Mai abbiamo assistito a una serata del genere. Un ultimo consiglio. Resta viva. Hunger Games, la ragazza di fuoco. Da mercoledì 27 novembre al cinema. Grazie.